Per questo Sporting 0-4 bloccato dal San Gottardo, Sporting vantaggio per 1-0 a fine primo tempo, sembrava fatta, dovevamo chiudere la partita, invece il primo quarto d'ora decisamente bruttino dello Sporting si fa chiudere, subisce due gol, poi spreca un paio di occasioni, purtroppo ragazzi è andata così, si rifaremo al più presto, comunque occasione buttata al vento dello Sporting per riportarsi sotto alle prime, mi sembra questo cazzo di segno di boccompagni che non ha batteria nella telecamera, peccato, e ci vediamo per le interviste di fine partita.